E con l'inno del Paglio siamo inquadrando la scena dei volontari, dello staff del Paglio che sta preparando questa gara che si è compiuta per la prima volta lo scorso anno ed è il gioco delle palle di fieno, dico bene, dei balloni di fieno che serviranno per la graduatoria, per l'ordine di partenza, la griglia di partenza per meglio dire la pole position, per stabilire la pole position del Paglio di quest'anno colui che arriva primo stabilirà praticamente la pole position delle squadre quindi dei fantini con i calessi, con i carretti e ovviamente l'asino in testa a tutti Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Partono in questo momento con la gara dei palloni di fieno dei palloni di fieno, una musica divertente in sottofondo poi là c'è Campania che è partita sparata, segue Sera, Poggio Triverlini che sta ostacolando Novagli Mattina, Campania, Campania in testa Sera non ci sta e quindi va velocissima cercando di sorpressare la squadra di Campania che per il momento è in colla davanti Molto piove troppo Triverlini e Novagli Mattina che ha un po' di difficoltà col pallone di fieno Sempre Campania in testa Campania potrà che avere l'asino che parte per primo se si dirà giocare bene questo gioco spuntando il gioco di parole ma qui ci sta Forza! Hanno rallentato quegli Campania che stanno facendo sorpassare la Novagli Sera Guarda Triverlini che passa dal mezzo Incredibile! Senti, Triverlini si sorpassa tutti con un colpo di mano Anzi, poi una pala di fieno Si sono incastrati Campania in sera e adesso sono Triverlini e i gialli di Novagli che si contendono la partenza Senti come incita il pubblico Risparmiate un po' di viso anche per dopo per la gara per la propria Triverlini sta affrontando la curva per la nostra sinistra Incredibile! Chi l'avrebbe mai detto? Se trova ci fosse un crudo vigno assoluto da parte di Campania Abbaiati! Triverlini è sera E mattina, perdone! Ma! Sta arrivando anche sera Guarda come si ostacola la divertentissima questa scena Guarda, no! Senza calci! Troppo divertente questa scena E' ribaltato pure un pallone nel mio avviso Triverlini prima Attenzione! Campania seconda Sera gli abbiamo ribaltato il pallone No! Contestano sempre Adesso andiamo a verificare per i giudici Terzo mattina E' sera qui in Perugia Non avrete passato la linea sera Sera è ribaltato il pallone nel mio avviso Grazie a tutti! E' beccato! Perugia